angelo buongiorno buongiorno ti sei svegliata a buon'ora e che ore sono allora sono venuto qui per darvi l'invito a un teatro dove si interessa dove andiamo a caso ok e a che ora alle 3 di mattina vabbè senta ci farò ci faremo un salto ma non le promettiamo niente ok arrivederci tu sei sicuro di volerci andare non lo so hai lasciato la porta aperta della tua camera ma sta facendo ma stanno un incontro male così il conto guardi che non è quella la strada ok vabbè se n'è andato dai gelo prepariamoci poi aspettiamo che arrivi stasera sarà una lunga giornata oh ecco la mia figlia almeno credo è questo posto non credo che sia un bel parcheggio questo è un po' mal andato il posto in effetti abbiamo portato dei succhi alla pera li poggiamo qua emm un pochino roma a come